La festa del Bosco di Montone Sì, diciamo che inizieremo giovedì pomeriggio, tre giornate piene, 32 edizioni sono importanti, diciamo che Montone insieme a Città di Castello è stato il procursore di questo tipo di manifestazioni, poi siamo stati seguiti dalle altre città dell'Alto Teveri. La nostra manifestazione non è soltanto una mostra a mercato dei prodotti del Bosco e del Sottobosco, quindi troveremo gastronomia, prodotti tipici locali e anche artigianati locali, ma cerchiamo di comunque legarci intorno anche a un'attività culturale importante. Quindi ci saranno dei eventi culturali, concerti, in collaborazione con le associazioni locali, concerti, anche street band in giro per il paese, quindi eliteremo le giornate anche per i bambini con laboratori per i ragazzi. Quindi ecco c'è una bella vivacità culturale che arricchisce la manifestazione, fa sì che insomma questa manifestazione è apprezzata da tutta Italia e anche all'estero, infatti c'è anche una grossa ricaduta turistica nel territorio. Quindi si parla giustamente di tartufo e di prodotti del Bosco, però di fatto la manifestazione si trasforma in una sorta di contenitore. Sì, è un contenitore come dicevo di eventi, devo ringraziare per questo tutte le associazioni locali che collaborano i cittadini di Montone perché appunto le botteghe sono allestite all'interno dei fondi che i privati cittadini gratuitamente ci danno per questa settimana e questo appunto è un valore aggiunto perché Montone comunque le vie, le piazze, è uno dei borghi più belli d'Italia, insomma attira molti visitatori. Ecco, quello che caratterizza la nostra festa del Bosco è proprio questo vivere in un contesto che per quei quattro giorni sembra un po' fuori dal tempo. Ci tengo a sottolineare che la festa del Bosco ha dei momenti anche che mettono in contatto il visitatore con la natura. Il percorso della Valle del Carpina è un percorso che abbiamo valorizzato in questo ultimo anno che permette comunque di uscire dal Borgo e ritrovarsi immediatamente immerso nella natura e quest'anno abbiamo valorizzato la Valle del Carpina e i castelli di Montone. Il primo castello è Montone stesso, il castello di Borgo Vecchio e poi passeggiando per la via del Carpina sarà possibile scorgere altri castelli, alcuni diciamo più restaurati e ben tenuti da chi vive il territorio e altri insomma tutti da scoprire, non secondare la Rocca Darius e poi anche il nostro Coloti molto importante. Fernanda Cecchini è assessore regionale, dunque Montone potrebbe essere considerato per più motivi uno dei prototipi dell'Umbria che piace? Montone è un bel borgo, tra i più belli d'Italia, per fortuna in Umbria è diffusa la presenza di borghi importanti da un punto di vista delle qualità ambientali, paesaggistiche, storiche, culturali. In questo caso siamo in Alto Tevere e Montone dà la possibilità sia di rispolverare una bella parte di storia della nostra regione e del nostro territorio allo stesso tempo godere all'interno di un centro storico veramente anche tenuto molto bene di qualità, di insomma godere e apprezzare delle vocazioni del territorio sia da un punto di vista enogastronomico ma anche come artigianato, manufattura. Produzioni di qualità dell'Alto Tevere ma anche dell'Umbria. Insomma la festa del Bosco è una festa che ha origini abbastanza antiche, oltre 30 edizioni ma è anche un'occasione per valorizzare certamente le produzioni locali ma anche per conoscere e apprezzare meglio un borgo come quello di Montone completamente ristrutturato a misura d'uomo al quale i cittadini di Montone tengono tantissimo. Insomma un'occasione per visitare uno dei borghi più belli dell'Umbria e d'Italia ma anche per gustare la qualità della vita e la qualità del cibo e per mettere in rete le produzioni locali. Olio, tartufo, funghi, artigianato anche di qualità. Insomma una bella occasione per visitare Montone e soprattutto anche per ricordare che in questa fase si fa rete tra le tante feste che l'Alto Tevere propone e questa diciamo così con la festa, con la mostra del tartufo di Città di Castello chiude di fatto questo mese, il mese di ottobre, di tutte le feste legate al prodotto del bosco, del sottobosco e al tartufo. Tanto spazio anche all'arte. Uno degli artisti che espone è Paolo Masei di Bevagna in favore dell'uomo contro la natura. Perché? Chiaramente può apparire come una frase ironica ma in realtà non lo è. Questa mostra, questo pensiero di questa mostra nasce oltre dieci anni fa perché io dieci anni fa ho iniziato la raccolta dei funghi ma precedentemente ho ragionato molto, ho pensato molto a questa idea. Io ho voluto semplicemente, dato che il fungo quando nasce è un segnale del decadimento della pianta per cui togliendo il fungo dalla pianta e rivoltandolo, al contrario, io ho voluto spiegare quello che è il mio concetto cioè che Bois diceva la rivoluzione siamo noi, io affermo io sono la rivoluzione cioè sono io che devo cambiare individuo e non noio. Allora, il Museo di San Francesco di Montone ospiterà questa mostra curata da Andrea Baffoni. Dunque, se uno volesse leggere il titolo, insomma, è anche un titolo pericoloso perché contro la natura è pericoloso andare però in realtà c'è un significato ben preciso e anche un criterio ben preciso di allestimento di questa mostra. Sì, è un titolo pericolosissimo. La prima volta che me ne ha parlato Paolo io mi sono subito un po' messo sulla difensiva proprio perché da critico d'arte sapevo di andare incontro un tema difficilissimo da giustificare. Io conosco benissimo Paolo e il suo lavoro e sapevo quale era il principio ma metterlo poi in forma di parole e certamente giustificarlo sul pianeta artistico è molto difficile ma la logica è molto semplice. È il paradosso che guida questa mostra il paradosso della responsabilità dell'uomo, soprattutto contemporaneo, di diventare esso stesso la rivoluzione cioè contro la natura non per andare contro la natura contro la natura perché l'uomo di fatto opera in contrasto con la natura poiché trasforma la natura a proprio favore però conoscendo la natura e rispettandola contro la natura significa rispettare la natura e rispettare quella madre natura a cui noi normalmente andiamo contro costruendo strade, palazzi, antenne e modificandola in un tempo in cui l'ecologismo, il movimento ecologista che in particolar modo Bois aveva in qualche modo portato avanti nelle sue idee, nei suoi progetti ha di fatto fallito questo percorso perché le cose non sono migliorate, anzi sono peggiorate allora l'ipotesi di Massei qual è? Quella di diventare esso stesso la rivoluzione ma quando parla di esso stesso parla anche di me, parla anche di voi, parla di tutti cioè il singolo che debba iniziare a prendere e ad avere e assumersi la responsabilità delle proprie azioni